E una buona domenica a tutti cari amici, ben ritrovati insieme, settimana interessantissima sui mercati, ma prima di tutto come sempre andiamo avanti con i grandissimi risultati ottenuti dal metodo Wolf, la rendita passiva presentata sempre da Matteo Talarico in questi mesi, in queste settimane con grandissimi risultati, quindi vi invito a passare su Telegram, vedete i centinaia di migliaia di risultati che arrivano quotidianamente e soprattutto che arriveranno alla fine di questa settimana con i premi sulle opzioni andate ancora in profitto, quindi oggi trading e investimenti, ci trovate su Telegram, vi invito a passare perché vedete veramente parecchie persone che danno le loro testimonianze, i loro risultati e i loro profitti e vi voglio invitare anche un evento virtuale che si trarrà proprio questa settimana, mercoledì 27 marzo alle ore 21, troverete il link per registrarvi qui sotto nel video e anche nel primo commento troverete proprio il link per registrarvi, ore 21 si parlerà di metodo Wolf, di rendita passiva, come guadagnare in 30 minuti al mese, dei profitti che vanno dal 5 al 10 al 15% al mese in base anche alle condizioni di volatilità del mercato, quindi dai ci vediamo poi all'interno, mercoledì 27 marzo con la presentazione di Matteo Talarico. Noi andiamo avanti con tutto quello che è successo questa settimana, è veramente incredibile Pavel, tutto quello che è accaduto, adesso andiamo a fare un riassunto velocemente e in modo che abbiate le idee chiare su tante cose, tanti dati. Allora abbiamo visto che i dati sull'inflazione americana sembrano comunque persistenti, quindi la Fed ha mantenuto comunque la sua proiezione di tre tagli dei tassi e Pavel ha dichiarato che comunque è un'inflazione dovuta un po' al periodo, quindi non è un'inflazione dovuta a qualcosa di persistente e duraturo secondo lui. Ci sta perché in tanti paesi l'inflazione sta scendendo, penso a UK, in UK abbiamo dei dati sull'inflazione che sono interessantissimi, è crollata l'inflazione tranne sui servizi, ma su tutto il resto è scesa pesantemente. quindi in Europa è scesa, quindi lui dice se comunque stati così grossi sta scendendo scenderà anche da noi, questo è quello che Pavel forse si augura. Vedremo. Quindi i mercati hanno interpretato tutto questo come accomodante e l'indice S&P 500 e l'oro sono andati a livelli record. Quindi vedremo un po' quello che accadrà più avanti, sicuramente c'è da stare attenti sul termometro inflazione e vediamo. Poi per quanto riguarda il dot plot della Fed si è spostato verso l'alto oltre il 2024, quindi vedremo anche lì situazione tassi. Diciamo che a mio avviso rimane un po' tutto invariato però bisogna anche essere pronti ad avere questi tassi un pochino più a lungo rispetto a quanto preventivato per esempio a dicembre. Goldman Sachs prevede il primo taglio dei tassi a giugno, molto fiduciosa Goldman Sachs di questo. Poi la Fed ha alzato le proiezioni del PIL e corretto a rialzo quelle relative all'inflazione, POR di quest'anno e poi il dato significativo che i titoli del tesoro a breve termine hanno registrato un rally, normale, mentre ha avuto un impatto minore sulle obbligazioni a più lunga scadenza. Quindi per chi ha visto poca volatilità su i bond a lunga scadenza è proprio per tutta questa ragione qui. La volatilità implicita del mercato dei titoli del tesoro è scesa al livello più basso degli ultimi due anni, infatti quando c'è un periodo molto prolungato di tassi alti e vengono modificati né a rialzo né a ribasso è normale che la volatilità rimanga ferma su questi tipi di prodotti come può essere l'obbligazionario che non sa bene se diciamo andare su o andare giù perché non c'è chiarezza ancora, cioè si dice tagliamo tre volte i tassi però per il momento siamo a quasi aprile e nel primo trimestre non c'è stato nessun taglio, quindi gli operatori si fidano che ci saranno tre tagli però non fino in fondo, cosa che è diversa sull'Europa, l'Europa che si sa che dovrà togliare i tassi perché non può tenerli così alti per via dell'inflazione che è più bassa rispetto all'America, ok? Quindi poi le richieste di mutuo in America si mantengono al di sotto dei livelli dell'anno scorso, quindi questo è un buonissimo segnale e il tema come dicevo cruciale delle prossime settimane rimane quello dell'inflazione, molti operatori iniziano a chiedersi questo, esiste il rischio che l'inflazione core rimanga persistentemente al di sopra del 2% e questo è un tema che a mio avviso dobbiamo iniziare a porci perché potrebbe anche essere che la Fed, viste tutto quello che sta accadendo nel mondo, dica ok non arriviamo proprio al 2% ma se arriviamo anche al 3% iniziamo a tagliare, ok? Quindi attenzione perché questo sarà un tema delicatissimo, è un tema che molti a mio avviso si stanno diciamo stanno perdendo di vista, ok? O stanno sottovalutando meglio, quindi attenzione perché guardando i vari dati non vorrei che comunque taglino a giugno ma l'inflazione core sarà comunque al di sopra del 2%, quindi lì bisogna vedere anche gli operatori, quindi i mercati finanziari come reagiranno eventualmente a questo taglio dei tassi. Poi, interessantissimo, interessantissimo, Svizzera, infatti l'abbiamo messa come sotto la lente, la banca centrale Svizzera ha tagliato inaspettatamente i tassi, quindi dall'1,75 sono dati all'1,5. La cosa interessante è che la Svizzera non li ha alzati in alto come Europa e America e come la banca centrale inglese, ma si era fermata all'1,75, è forte anche del fatto che comunque il franco svizzero aveva veramente giganteggiato, aveva fatto dei numeri stellari come valuta rispetto all'euro, rispetto all'America, quindi aveva praticamente avendo una valuta più forte aveva tamponato l'inflazione e tutta questa politica per il momento ha pagato e infatti forse ha pagato anche troppo perché comunque cosa è successo? La Svizzera se ha la valuta troppo forte non va bene per la propria economia e quindi adesso è arrivata a un tappo, non ce la fa più a tenere quel cambio così forte e ha detto taglio i tassi e infatti il franco svizzero è crollato rispetto all'euro, quindi ha preso una bella bocca, poi è crollato, è un parolone, però da 0,93 mi pare, vado a memoria, è arrivato a 0,97, quindi è un bel 3-4% di movimento, quindi che per le valute diciamo è tanta roba e poi naturalmente i rendimenti delle obbligazioni svizzere sono state nettamente inferiori, quindi sono scese, ok? Quindi dato interessante la Svizzera perché taglia i tassi perché aveva una valuta troppo forte che non reggeva più la sua economia, ha fatto il suo lavoro perché comunque ha evitato di avere inflazione alle stelle e infatti adesso tra virgolette hanno bisogno un po' di inflazione perché comunque veramente hanno tamponato alla grande, quindi ottime scelte e adesso vedremo se avranno i loro frutti. Tra l'altro nell'outlook la Banca Centrale Svizzera ha detto signori noi tagliamo i tassi ma siamo sempre pronti anche ad alzarli o a tagliarli di nuovo se le condizioni economiche andranno un po' a cambiare, a montare nel corso delle settimane e dei mesi, quindi è un taglio però vedremo. Bene, abbiamo detto abbastanza tutto, ultimi dettagli sull'Europa, l'inflazione continua a scendere, quindi l'Europa che è molto stabile, mercati sui record, sui massimi storici, Futsimiv, DAX, tutti sui massimi quindi siamo molto sereni su questo, adesso andiamo a vederli anche nella parte grafica però dati significativi sull'Europa onestamente non ne vedo. Andiamo a proposito quindi di Europa a vedere l'Eurostox, l'Eurostox molto forte, siamo a 5.064 arrivati questa settimana, vedete comunque la struttura si vede molto bene sul settimanale, continuano, continuano a comprare praticamente massimi, qua non l'ha fatto di un pelo oppure si è proprio fermato sul massimo, vediamo è stato un 5.032 di massimo settimana scorsa, qui abbiamo chiuso a 5.034 di pochissimo, può essere anche lo spread qui, quindi ha comprato dai diciamo massimi, ma la cosa fondamentale come vi ripeto da tante settimane è il non vendere minimi della settimana scorsa, questo è un dato chiave e finché il mercato non lo fa non scenderà, quindi è molto semplice la cosa e infatti se guardate da un sacco di settimane il mercato è ripartito alla grandissima, con questa candela di gennaio ha proprio ucciso qualsiasi speranza che il mercato potesse ritracciare e anche qui quindi la struttura è molto bella, ha rialzo, il mercato è molto forte e c'è una bella struttura di mercato. Per quanto riguarda invece il Nasdaq, Nasdaq molto forte anche lui, ha fatto nuovi record, nuovi massimi, struttura invariata di mercato, avevamo dato dei supporti in quest'area, non ci siamo arrivati di poco, quindi li ho alzati addirittura perché con questa candelona la volatilità è venuta forte e quindi interessante comunque anche qua il mercato che riesce a fare delle cose molto molto interessanti, si vede anche qua sul settimanale, vedete che non aveva venduto minimi settimana scorsa di pochissimo e poi il mercato lunedì ha aperto subito forte e ha rimbalzato. Poi, ultima cosa di macroeconomia, è successo un attacco in Russia terroristico, non credo che le borse vadano nel pallone per questo dato, per questo dato scusate, per questo avvenimento, però teniamo monitorata la situazione, la situazione inizia a essere un po' pesante tra Russia e Europa, quindi bisogna stare attenti, la tensione sta salendo, non credo che si arriverà a un punto di guerra come sto leggendo eccetera eccetera, però bisogna stare all'occhio, bisogna stare all'occhio, non sui mercati perché i mercati anche a volte nelle guerre poi non ne risentono più di tanto, però bisogna stare proprio attenti a questi avvenimenti che comunque non danno tranquillità a tutti quanti, quindi il mercato non credo che andrà a reagire questo inizio settimana, però vedremo, capiamo un po' gli eventi, quello che accadrà nelle prossime ore, nelle prossime settimane. Dax, come vedete la struttura è fortissima, non vende mai minimi, compra sempre massimi, ormai da tante settimane è così, quindi è un mercato molto forte, parlando anche a livello statistico, facendo vari studi, il mercato tranquillamente sta volando, volando, e può ancora volare, cioè arrivare anche ai 19 mila, cioè per gli amici che guardano lì per comprato, tutte queste robe qui, attenzione perché il mercato ha spazio, cioè il mercato ha spazio di salire e state attenti, state attenti a shortare perché ci si fa molto male, soprattutto visto che fino adesso non abbiamo neanche un minimo venduto sulla settimana prima, quindi non c'è proprio ragione, nessun tipo di ragione per vendere questo tipo di mercato. Andiamo avanti, euro-dollaro, forte debolezza, ok? Dopo le parole di Powell, c'è stato un forte movimento a rialzo inizialmente, poi quando Powell ha iniziato un po' a parlare che comunque ci saranno tre tagli dei tassi, comunque si aspettava magari il mercato qualcosa di meno, quindi per il momento l'euro-dollaro ha preso una bella botta, quindi, cioè, no, scusate, ho detto una cavolata, e domenica anche per me, dai, fatemi ricollegarmi. Allora, Powell praticamente non dando per certo il taglio dei tassi, perché non è che ha detto taglieremo i tassi il mese dopo, il mese prossimo e via scorrendo, non ha detto questo, quindi il mercato inizialmente era convinta che Powell dicesse andiamo a tagliare i tassi, quindi l'euro, anche in maniera abbastanza insignificante, è andato a rialzo, ha anche poco senso quel tipo di movimento, perché l'Europa li taglia i tassi, cioè li deve tagliare, non è che si scappa, se non è aprile sarà giugno, se non è giugno sarà luglio, ma l'Europa li deve tagliare, quindi il mercato ha reagito male e il dollaro ha preso forza, perché comunque contro l'euro è gioco facile, quindi il mercato adesso ha fatto un bel movimento di rialzo per lì il dollaro, quindi di ribasso per l'euro e ancora strada, secondo me possiamo anche vedere tranquillamente i 0,740, poi 0,695, poi magari da lì rimbalza, perché comunque non conviene a nessuno avere valute troppo forti, quindi avranno trovato un punto di incontro verso 1,10, secondo me balleremo un po' per parecchio tempo su queste aree. Andiamo a vedere l'S&P 500, ancora record, ancora record, c'è poco da fare, stessa cosa che diciamo del DAX, NASDAQ e compagnia, il mercato non vende minimi, inutile provare degli short quando l'assolutore di mercato è così forte, il mercato va, lasciamolo andare, poi quando accadrà qualche ribasso ci penseremo, mi viene da dire, quindi mercato molto forte, supporti sempre in questo caso, fino all'area di 5.000, sono abbastanza tranquillo, sotto i 5.000 magari qualche domanda potrei farmela, però potrei farmi solo delle domande, poi per darmi delle risposte dovrei vedere qualcos'altro, però per il momento S&P molto forte. Gold ha provato ad aggredire massimi, massimi storici, li aveva già aggrediti, aggiornati, non ha chiuso sopra, quindi questo è un segnale un attimo distensivo, il mercato era volato, nella giornata poi dopo Powell, adesso qualche segno di cedimento c'è, ma a mio avviso rimane ancora un trend molto forte al rialzo, ok? Almeno finché teniamo i 2080 ragazzi, se no questo è molto chiaro, a mio avviso si vede anche sul settimanale, se non andiamo a rompere questo candelone verde, il mercato tende più a salire. Sul gold, sterlina dollaro, quindi abbiamo detto inflazione in UK che è crollata, ok? Quindi questo vuol dire che la sterlina, la banca centrale inglese a mio avviso non farà l'errore dell'Europa di temporeggiare troppo, ma andrà a tagliare i tassi, non so quando, ma li taglierà, quindi ha subito questa discesa e abbiamo comunque, siamo arrivati a dei target che avevamo dato l'altra volta, che era l'area di 1.28 circa, poi da lì siamo iniziati a scendere, adesso abbiamo dei target qui sotto, tra 1.24 e 1.24 e 1.30, quindi quest'area qua tra 1.24 e 1.94 e 1.24 e 1.30 per la precisione, quindi ci sta che il mercato possa scendere un pochettino. Poi dollaro Canada schizzato a rialzo, debolezza anche del petrolio che dopo andiamo a vedere, quindi ha aiutato dollaro Canada a risalire, qua secondo me il trend è abbastanza avviato a rialzo, ve l'ho detto da un po' di settimane e dovremmo arrivare finalmente nell'area poi di 37.10 come resistenza, chiudiamo con Wall Street, Dow Jones, quindi record su record, allungato pesantemente, poi chiuso male venerdì, ma secondo me tante prese di profitto, quindi non c'è ancora da preoccuparsi, il mercato è molto forte a rialzo e questa chiusura comunque sopra i massimi precedenti è interessante, quindi credo che il mercato andrà a volare ancora, avrà forza comunque per accelerare, area 38.620 rimane quello di supporto più importante per quanto riguarda il Dow Jones. Chiudiamo con il petrolio, petrolio che ha subito comunque l'area di 83 e a mio avviso avevamo dato un ottimo dettaglio importante dove poteva crescere il petrolio perché in India c'è una richiesta importante perché l'economia, le aree urbane che ho detto si stanno iniziando a creare in India necessitano comunque della materia prima del petrolio, questo ha dato un forte boost alle quotazioni, però credo che ci sia anche un limite, non andremo a spingerci tornando sopra 90 a mio avviso, mi sembrerebbe molto difficile, vorrebbe dire un'inflazione che torna a ricorrere in tutto il mondo, quindi secondo me il petrolio sotto 80 deve starci, questa è una mia idea, vedremo poi nel corso delle prossime settimane, qui comunque c'è poco da ragionare ragazzi quando arrivano attentati, stati che vogliono andare in guerra con altri stati eccetera eccetera, qua il quadro economico, il quadro geopolitico è molto caldo, quindi c'è poco c'è poco da fare. Bene, io vi auguro una buona domenica, ci vediamo mercoledì 27 marzo con Matteo Talarico che spiegherà a tutti noi come guadagnare passivamente in soli 30 minuti del mese e ci vediamo proprio all'interno del webinar, un grande abbraccio e ci vediamo come sempre domenica prossima.